I carabinieri delle compagnie di Mistretta e Messina Sud con i militari del nucleo ispettorato del lavoro di Messina hanno sottoposto a verifica due cantieri edili allestite a Capizzi e a Roccalumera. Si tratta di attività finalizzate alla prevenzione, alla repressione dei reati sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'immersione del lavoro nero disposti dal comando provinciale carabinieri di Messina d'intesa con il dirigente dell'ispettorato territoriale del lavoro di Messina Enrico Zaccone. All'esito dei controlli, i militari dell'arma hanno accertato violazione ananormativa di settore e in particolare la mancanza delle precauzioni, quali installazioni di parapetti nei pressi di scavi volte a evitare il pericolo per gli operai, la mancanza di misure tecniche necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico, nonché la mancata formazione degli operai sui rischi per la salute e la sicurezza. Entrambi i titolari dei cantieri sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e al loro carico sono state combinate ammende e sanzioni per oltre 58 mila euro con le contestuali sospensioni dell'attività dovute alle gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso dei controlli tutti gli operai controllati ed impegnati nell'attività di cantiere dal punto di vista contrattuale sono risultati in regola, tuttavia due lavoratori impiegati nel cantiere di Roccalumera sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per aver utilizzato attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di legge.